Assolutamente sì, è quasi scontato ma è un momento emotivamente fortissimo della mia vita e sono molto contento e soddisfatto perché questo riconoscimento arriva dopo un percorso fatto di sacrifici e di passione messa nella musica quindi ha un doppio valore aver ricevuto il premio di Sanremo Giovani, oltretutto inaspettatamente ancora di più il premio della Critica Mia Martini mi lusinga questa cosa, sono contento però per il brano Amen perché è un brano al quale tengo molto perché è un brano che credo che possa essere un bel segnale per iniziare a vedere le cose magari in un modo un po' diverso un brano del genere a Sanremo, è una parte sì è frizzante, elettronico, ti fa ballare però comunque porta un testo che sicuramente se una voglia ti fa riflettere sul modo di vivere dei nostri giorni e infatti sono veramente soddisfatto sì è stato probabilmente io le definisco le montagne russe dell'emozione però devo dire la verità che tanto il mio approccio di salire sul palco è sempre stato quello comunque della positività del divertimento e sinceramente sia l'altra sera che ieri sera sono salito con quello spirito ora certo stasera ho l'onore di salirci per la terza volta non da gareggiante diciamo così e sarà sicuramente una condizione ancora più rilassata oh sono felice